Sono già iniziati e dureranno fino al 30 settembre, poi si vedrà se continuarli eventualmente, i controlli, i pattugliamenti misti italo-sloveni del confine. Oggi la conferenza stampa qui a Basovizza proprio per spiegare le modalità di questi controlli che si inseriscono nella naturale collaborazione proficua tra Italia e Slovenia per il contrasto dell'immigrazione sulla rotta balcanica. Quattro le pattuglie miste italo-slovene per quattro giorni alla settimana con a bordo due agenti della Polizia di Frontiera italiani e due colleghi sloveni che sorveglieranno un'area di circa 10 chilometri lungo la fascia confinaria. Sono le modalità dell'operazione avviata oggi in fase sperimentale per contrastare in particolare l'immigrazione clandestina crescente lungo la rotta balcanica ma anche le comune criminalità. Il punto della situazione sarà fatto ogni 15 giorni per rimodulare eventualmente le modalità di frequenza e i percorsi delle pattuglie che al momento si concentreranno nelle ore notturne del primo mattino. Infine il 30 settembre sarà effettuata una panoramica definitiva dell'attività che potrebbe essere ulteriormente estesa. La Polizia italiana e quella slovena valutano che questo tipo di pattugliamento sia molto utile in quanto pensano che una collaborazione tra le due polizie con il pattugliamento misto sia molto utile per un controllo del territorio. Dall'inizio dell'anno fino all'altro ieri sono oltre 5.000 emigranti fermati dalla Polizia in territorio sloveno, la maggior parte provenienti dalla Croazia alla cui frontiera si sta vivendo la situazione più critica secondo i vertici istituzionali d'oltre confine. I controlli è stato ribadito, si terranno lungo la fascia confinaria nelle province di Trieste e Gorizia sul versante italiano e di Capodistria e Nova Gorizia su quello sloveno. Ci aspettiamo molto comunque dei risultati positivi dall'inizio di questi pattugliamenti misti che partono, anzi sono già partiti oggi. La collaborazione con la Slovenia è ottima e siamo certi che anche con le notizie di intelligence che ci scambieremo lavorando insieme faremo un buon servizio per le nostre collettività.